Non basta la domenica ecologica, polveri sottili ancora sopra i limiti, l'inquinamento resta alle stelle, il livello delle polveri fini è calato durante la giornata di ieri di limitazioni al traffico straordinarie, ma purtroppo i valori a Piacenza hanno comunque superato i limiti consentiti. La pioggia a Scarseggio nel 2017 è iniziato molto male sul fronte smog, nella centralina tra via Giordani e lo stradone Farnese si sono già registrati 27 superamenti, la soglia consentita in tutto l'anno è di 35. Stiamo cercando di usare tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, commenta l'assessore comunale all'ambiente Giorgio Cisini, purtroppo il clima e l'incidenza del riscaldamento stanno condizionando tutta la pianura padana. Le azioni che mettiamo in campo sono condivise in regione, stiamo lavorando sulla prevenzione e sull'incentivo della mobilità sostenibile, per questo abbiamo rivisto anche la viabilità. Ieri sono stati 51 i veicoli controllati dalla Polizia Municipale, presente con 6 posti di blocco. Nell'ambito dei controlli non sono scattate sanzioni legate alle limitazioni alla circolazione, gli agenti hanno però elevato 3 multe per il mancato rispetto del codice della strada. Grazie. 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 Grazie.